e voi cosa mangiate in vacanza? ok questo è un bombolone con la crema ma per rimanere leggeri e per i sensi di colpa tanta bella inserata ma tanta 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 guardate quanti pomodori ci siamo finiti in una settimana che poi stanno benissimo insieme a queste focaccine del mio forno preferito e poi ok si è quello che pensate è proprio nutella perché pane e nutella dopo pranzo ci sta bene e magari anche un bel caffè caldo un espresso bollente magicamente mi sono avanzati i cristini questa che si porta un barattolo di crudella e spiace provare il minimo ok ovviamente non soltanto snack ma anche tanta tanta frutta e vi chiederete siamo ingrassati forse no perché ci siamo fatti veramente tanta tanta ma tanta strada a piedi buona vacanza a tutti ciao